Il fondo Oriana Fallaci è una ricchezza per tutta la Toscana, è una ricchezza per tutti noi e allora consentitemi subito di ringraziare il nipote che ha permesso di mettere a disposizione i suoi iscritti, anche quelli ancora non noti alle cittadine e ai cittadini della nostra regione. Le permettetemi di ringraziare le curatrici, hanno fatto un lavoro enorme. Così il presidente del Consiglio regionale Antonio Masseo ha commentato la realizzazione del volume Il Cuore in Toscana, inventario del fondo Oriana Fallaci, un archivio ricchissimo di documenti, tra i più importanti al mondo, che oggi diventa pienamente disponibile al pubblico. Vorrei provare a fare in modo che questi iscritti potessero essere tutti digitalizzati per permettere ai cittadini del mondo di poter accedere a un archivio che è unico, un archivio dal valore inestimabile. C'è un messaggio forte che passa, l'importanza di essere donne e uomini liberi. E il valore della libertà, il valore della memoria, ha bisogno di essere coltivato. Oggi è una giornata bella, importante e un primo passo, un passo che vogliamo continuare a portare avanti per fare in modo che quella memoria possa essere presente. Il lavoro, realizzato in collaborazione con il Comitato Tecnico Scientifico per gli Archivi del Ministero della Cultura, è stato creato da un team che comprende Monica Valentini, responsabile dell'archivio storico del Consiglio regionale della Toscana. Siamo finalmente arrivati alla pubblicazione del volume, anche se il lavoro di riordino e di catalogazione della biblioteca era già stato completato, avevamo già reso accessibili questi materiali a chi ce l'aveva fatto richiesta, però a questo punto con questa pubblicazione, che tra l'altro è anche in formato digitale sul nostro sito, è possibile per chiunque, quindi non solo studiosi, ma anche curiosi, appassionati, amanti della scrittura di Oriana Fallaci, vedere che cosa possediamo e fare eventualmente richiesta per consultare questo materiale. Sicuramente un archivio che racconta Oriana Fallaci, che Oriana Fallaci ha voluto, quindi che porta, come dire, il filtro anche della sua volontà di memoria, di se stessa, del lavoro che ha fatto, del mondo che ha visto e quindi anche del mondo come l'ha interpretato. Ed è un archivio, diciamo, che racconta non solo Oriana Fallaci, ma racconta una parte del Novecento, attraverso le interviste, attraverso i materiali, attraverso anche i materiali sonori, da un certo punto di vista è la voce del Novecento, naturalmente sempre con il filtro di Oriana Fallaci, questo non va dimenticato, un atteggiamento critico nei confronti di questo tipo di fonti è sempre molto importante. Alla presentazione erano presenti Edoardo Perassi, nipote del Red Universale di Oriana Fallaci, che ha messo a disposizione tutto il materiale archivistico in suo possesso, Riccardo Nencini, che era presidente del Consiglio regionale quando fu istituito il fondo Oriana Fallaci nel 2006, e il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Cannavò, che ha moderato l'incontro. È una giornata, da un certo punto di vista, per me storica, perché la memoria di Oriana è molto presente, specialmente in questi ultimi anni, e rappresenta tanto per i suoi lettori, è una presenza affettuosa, è costante, è una compagnia. In generale, diciamo che è una presenza severa, è così, però anche di esempio e di insegnamento. Io, come tutti quelli che hanno a che fare col suo lavoro direttamente, sentiamo molto questa giornata, perché l'archivio rappresenta un passo fondamentale, per mettere a disposizione il lavoro di Oriana e anche, in certo senso, parte della sua vita, perché gli oggetti contenuti nel fondo, i suoi scritti personali, le lettere, sono evocativi e servono molto a capire come questa donna non solo lavorava, ma anche come ragionava e come era fatta, quanto era legata alla sua famiglia e a questa città, naturalmente. La pubblicazione addirittura di un manuale per la consultazione è un ulteriore step, che francamente non mi aspettavo ed è ancora di più una gioia, veramente. Penso che Oriana sarebbe stata molto molto contenta, fiera, quindi non solo adesso c'è una fermata del tram, Oriana Fallaci, ma un fondo che tutti possono utilizzare, per curiosità, per conoscenza, beh, lo sono molto contento. Una ricchezza documentaria è intanto straordinaria, perché si aggiunge al lavoro già fatto da Monsignor Fisichella, le donazioni di Oriana a Monsignor Fisichella, e poi i fondi e le carte che ha Rizzoli, per Rizzoli Oriana ha scritto costantemente per una vita intera. Però c'è un tassello toscano a questo punto importante, perché? Perché Oriana sta a Firenze come Henry Ford sta a Detroit. Senza Detroit non c'è la Ford, senza Firenze non ci sarebbe stata questa Oriana, e quindi avere il fondo in Consiglio regionale è la cosa giusta. Credo che l'importanza di questo fondo sia il scoprire il lavoro minuzioso e la personalità della Fallaci dietro di Quinte, quindi tutto quello che era di preparazione ai suoi straordinari articoli, e ai suoi straordinari libri, perché dietro appunto la grande scrittrice c'è un grandissimo personaggio. Io ho avuto la fortuna di assistere a queste fasi di lavorazione, perché ho conosciuto Oriana dopo l'11 settembre, sono stato con lei a New York e sono stato accanto a lei nei periodi di preparazione degli articoli per il Corriere della Sera e anche per la stesura di alcuni libri che lei ha realizzato dopo l'11 settembre. Si è tenuta a Palazzo del Pegaso la Stakeholder Consultation, il report annuale sulle politiche di concorrenza dell'Unione Europea. Erano presenti il Presidente del Consiglio regionale Antonio Masseo, i Presidenti delle Commissioni sviluppo e politiche europee Ilaria Bugetti e Francesco Gazzetti e la ricercatrice dell'Università Bocconi Irene Agnolucci. Tema di riflessione principale, tenere insieme gli aiuti di Stato e le politiche di coesione europee. Ho sempre detto che volevo essere la voce della Toscana nel Comitato delle Regioni, in Europa, e per questo ho voluto confrontarmi con gli stakeholder del territorio, con chi ogni giorno questi temi li vive, con le imprese, con i sindacati, a loro va il grazie, il grazie per i suggerimenti e gli spunti che mi stanno e ci stanno dando. Lo stessa iniziativa l'avevo fatta a livello europeo. A me piace costruire pareri, risoluzioni che partano dalle istanze, delle imprese e dei cittadini. Il tema della concorrenza è un tema difficile, che sembra lontano dalle vite delle persone. Invece voglio dire alle cittadine e ai cittadini toscani che è un tema della nostra vita, perché se uno Stato europeo ha più margini, più possibilità di concedere aiuti di Stato, vuol dire che un'impresa che compete con una nostra impresa sul territorio può essere favorita. Se viene favorita vuol dire che un'impresa del nostro territorio rischia di poter perdere lavoro, occupazione. Invece, in questo parere, io chiedo che gli aiuti di Stato non vadano a discapito della coesione territoriale. È necessario che ci teniamo insieme, che ci sia supporto, ci sia generosità da parte di tutti. Ed è quello che ho chiesto anche ai componenti dei Paesi che hanno più forza in questo momento. Ad oggi questo dialogo è un dialogo aperto. Mi piacerebbe che il 17, il 18, quando andiamo a provare questo parere, venga votato da tutti, senza distinzione di colore politico, senza distinzione di territori. Perché guardate che anche all'interno dei territori che hanno più capacità fiscale, più forza, penso alla Germania, ci sono anche territori che soffrono. E quindi è interesse anche loro che le disuguaglianze si riducano invece di ampliarsi. E questo ascolto di oggi per me è stato molto importante. Davvero una grande partecipazione al tessuto economico, sociale e produttivo, che mi dice che il metodo, la strada è quella giusta. È un tema che sembra lontano quello dell'Europa, ma che tocca la vita di tutti i cittadini e di tutte le imprese della nostra regione, che sono particolari perché sono piccole e medie imprese, a volte micro imprese, che hanno bisogno di essere strutturate. I fondi dell'Europa in questa regione, anche storicamente, sono stati determinanti per far crescere molte delle aziende, le start-up, ma non solo, e anche per eliminare o correggere alcune politiche che potevano essere a vantaggio solo dei più grandi e meno dei più piccoli. Quindi noi, con queste mattinate e con questo ascolto, proviamo a portare in Europa, sul tavolo, sia del Parlamento che della Commissione, delle politiche che siano a misura di regione, a misura di Toscana, ma anche a misura di cittadino, per consentire lo sviluppo del nostro territorio. Il parere si compone di più parti. Nelle parti della concorrenza illustriamo alcuni strumenti che sono stati illustrati dalla Commissione durante questi ultimi mesi, come il Digital Market Act, che va a regolare i gatekeeper digitali affinché si crei un mercato digitale eco e competitivo. Il regolamento sui sussidi esteri, che è importante perché individua quelle imprese che ricevono aiuti da parte di stati esteri, andando a inficiare sulla concorrenza europea. Ma la parte centrale del nostro progetto di parere è quella sul tema degli aiuti di Stato. E noi auspichiamo una riforma strutturale che vada ad assistere anche gli investimenti strategici in tema di politica industriale. E in ultimo la proposta STEP. Facciamo ragionamento sul fatto che non deve dipendere da una riallocazione di fondi già stanziate alla coesione, ma da fondi indipendenti e mirati proprio all'industria e all'innovazione. Il tema della concorrenza è un tema che attraversa tantissimi ambiti della nostra vita economica e anche produttiva e sicuramente insomma quelle cose che sono emerse nel corso del dibattito saranno utili al Presidente Mazzeo, ma anche alle attività che cercheremo di portare avanti ancora di più, con ancora maggiore determinazione, sia all'interno della Commissione Europa e come sicuramente avrà detto la Presidente Bugetti anche in seno della seconda Commissione. Sono momenti di confronto e d'ascolto assolutamente fondamentali, è un tratto caratterizzante anche di questa legislatura e su questo noi continueremo a lavorare e a impegnarci. Il tema delle adozioni è al centro di una proposta presentata dal PD che chiede una modifica della legge nazionale. Il testo approvato a maggioranza chiede per Governo e Parlamento la possibilità di adozione legittimante per tutte le persone che a prescindere dal sesso o se in coppia possano garantire capacità genitoriale, stabilità e accoglienza. È un testo che parte da un punto centrale, che è quello della condizione del bambino. In Italia la legge sulle adozioni, modificata nel 2001 e del 1983, prevede che ad esempio per i single siano consentite le adozioni solo per casi espressamente definiti come disabilità grave, minorazione psichica e quindi c'è un'adozione che non viene definita come legittimante ma come sussidiaria. Noi partiamo dal centro che è quello dell'amore verso il bambino e secondo noi, visto che anche gli esempi dei maggiori paesi europei, chiediamo in quella impegnativa che la giunta regionale si attivi presso il governo e presso il Parlamento per dare seguito a questo nostro atto che vuole ampliare la platea, dare condizioni di uguaglianza perché oggi ad esempio la cittadinanza italiana per un'adozione cosiddetta sussidiaria è un percorso molto diverso da quello per l'adozione legittimante e quindi anche tutte le adozioni internazionali che vengono fatte perché in altri paesi si possono fare da parte di persone single non possono essere considerate allo stesso modo rispetto alle adozioni cosiddette canoniche, quelle cosiddette regolari o legittimanti. Questo è secondo noi un vulnus ed è una lacuna della legge che risente secondo noi di un tempo nel quale è stata scritta e oggi va migliorata profondamente. Lega e Fratelli d'Italia che avevano chiesto di rinviare il tema in commissione dichiarano si tratti di un argomento molto delicato. Il primo obiettivo è superare la burocrazia. Poter fare adottare le decine, le centinaia di migliaia di bambini già nati che oggi non possono essere adottati per colpa della burocrazia. La mozione di oggi era altro, era un put-pourri in cui all'interno c'era anche questo principio condivisibile ma si faceva altro. Si parlava del tema delle adozioni dei single che è un altro tema importante perché io non sono ideologicamente contrario al fatto che un single non possa adottare un figlio perché probabilmente ci sono single in Italia in grado di dare a un bambino preso in adozione una vita mille volte più dignitosa di quella che farebbe senza avere un'adozione alle spalle. Ma quella mozione lì era altro. Era una mozione ideologica che serviva a portare sul tavolo del dibattito il tema dell'adozione da parte delle coppie omosessuali che è il terzo tema. È un tema ancora. Allora noi non ci sottraiamo al dibattito. Si può parlare di tutti e tre i temi ma non si provi ad utilizzare il tema delle adozioni che è un tema serio per parlare di adozioni delle coppie omosessuali. Sono due temi differenti. Si può dibattere su tutte e due. Questa era una mozione che si fingeva, una mozione per garantire un percorso di adozione più facile ma in realtà serviva a dire grazie al Partito Democratico apriamo alle adozioni da parte delle coppie gay. Motivo per il quale Fratelli Di Salli ha votato contrario. Un corso formativo dedicato ai giornalisti per raccontare il sistema sangue, cioè il complesso organizzativo della solidarietà legata alle donazioni di sangue in Toscana. Un modello efficiente, all'avanguardia che però ha bisogno ovviamente della donazione dei volontari e per questo c'è un lavoro straordinario che fanno le associazioni di volontariato e poi c'è nel contempo un'attività di formazione per tutto il mondo giornalistico e questo è un elemento importante di novità, di diversificazione delle tematiche con le quali i giornalisti stessi e non solo devono acquisire conoscenze, possono e credo questo sia una comunione di intenti perché si può anche a sua volta divulgare questo livello di conoscenza. I giornalisti hanno una funzione straordinaria nella società e quindi duplicare questa funzione in una giornata come questa, per me così sensibile al tema della donazione del sangue, essendo stato da sindaco, il primo sindaco in Toscana, presentai a Palazzo Vecchio il progetto per il quale si potevano donare anche gli organi rispetto al rifacimento della carta di identità, fu un percorso importante, donazione di organi, donazione di sangue, sono due elementi che distinguono la dimensione della qualità delle donazioni che uno può fare perché le va a fare verso persone che magari non conosce, quindi quando si dona il sangue o si dona gli organi sono cose molto importanti perché tu le fai come gesto di altruismo indipendentemente dalla persona che può ricevere quel beneficio. Organizzato da Avis Toscana in collaborazione con il Consiglio regionale e l'Ordine dei giornalisti è stato coordinato da Claudia Firenze, presidente di Avis Toscana. Il sistema sangue è un sistema complesso con molti attori, sono qui oggi presenti per raccontarci e raccontare al meglio e per istituire un rapporto proficuo con tutti i professionisti dell'informazione. Alla fine donare il sangue è la cosa più semplice perché i donatori danno il braccio e donano il sangue, però dietro c'è tutto un mondo, c'è la regione con il centro regionale sangue, ci sono le Asel con i vari centri trasfusionali, tra l'altro in Toscana sono tutti centri pubblici, abbiamo una rete di centri pubblici negli ospedali, quindi ci sono i medici, gli infermieri e poi ci sono le associazioni di donatori, tra cui di Avis, ma ce ne sono anche altre, che promuovono la donazione di sangue e plasma e fanno sì che quando c'è bisogno di un particolare gruppo sanguigno, quando c'è una necessità specifica, i donatori siano sempre pronti per un sistema sicuro e di qualità per il paziente che poi alla fine è quello che noi abbiamo in mente e nel cuore quando facciamo il nostro gesto di donazione. Grazie Grazie